Ma a cosa serve questa forma che ricorda una pinna che hanno le barche a vela nella parte bassa? Questa è chiamata deriva e nella parte inferiore c'è il bulbo. Nelle piccole imbarcazioni serve per equilibrare le forze del vento che altrimenti tenderebbero a farla traslare in una direzione che non si vuole. Invece nelle grandi imbarcazioni qui sotto c'è un vero e proprio peso che basti pensare nella Coppa America va dai 19 alle 22 tonnellate e cosa fa? In pratica sposta il baricentro verso il basso quindi in pratica la barca è più stabile e in casi eccezionali anche evita il ribaltamento. E voi lo sapevate non dimenticate di seguirci. Ciao!